Marco Goldin tornerà a Treviso ben prima dell'annunciata mostra sugli impressionisti a Santa Caterina dell'ottobre del 2016. Lo farà da novembre a marzo, trasformando il teatro comunale in un'aula di storia dell'arte. Entusiasta padrona di casa, teatri S.p.A., diretta emanazione di Fondazione Cassamarca, con la quale Goldin ha rotto i ponti più di dieci anni fa. Non vedo il presidente De Poli dal 2004 tagli a corto, come a dire, nessun riavvicinamento, ma tenere il ciclo di sei lezioni sull'impressionismo, che tirerà la volata alla mostra sul palco del comunale, suona comunque come una rivincita. No, no, non è proprio la mia caratteristica di carattere questa, assolutamente. Per me la cosa importante è sempre lavorare con serietà, come ho fatto dappertutto, a Treviso come altrove, e quindi io veramente vado soltanto a cercare di lavorare con la massima serietà possibile. Di riscatti nei confronti di De Poli, Goldin non ne ha più bisogno, d'altro canto da anni, al suo fianco come sponsor c'è proprio Unicredit. Non un ritorno mordi e fuggi il suo a Treviso. La mostra a Santa Caterina non sarà un episodio. Lui ci tiene molto a questo progetto e sicuramente è un progetto che farà del bene alla città di Treviso. Poi so che hanno anche altri progetti futuri, quindi sarà un programma che si dipanerà nel giro di due o tre anni, insomma, quindi sicuramente farà del bene alla città. C'è la volontà di proseguire, di andare avanti, quindi vedremo se sarà possibile mettere in cantiere anche qualcosa d'altro dopo la mostra sulla storia dell'impressionismo. Grazie a tutti.